Cosa chiederete adesso a Renzi? Come si verificherà questo chiarimento? Io penso che Renzi debba prima di tutto riflettere su questo. Io non chiedo nulla a Renzi. Io penso che Renzi debba riflettere e chiedersi se così le riforme che lui ha lanciato al Paese sono più forti o più deboli. La mia personale opinione è che una camera mezza vuota è un pezzo significativo della sua maggioranza e in modo particolare del suo partito che decidono di votare no o di non votare o astenersi significa che non siamo sul terreno giusto e sulla strada giusta e io penso che Renzi debba riflettere su questo.